Musica Prestige fight internazionale, disciplina Muay Thai, categoria 53 kg, la distanza è quella dei 3 round da 3 minuti, chiamiamo all'angolo blu, 12 incontri disputati, 8 vittorie e 4 sconfitte per lui, medaglia d'oro alla Coppa Nazionale di Francia 2018. Per il team siamuai da Sarcelli Francia, Yanis Sualili. Per il team siamuai da Sarcelli Francia, Anis Sualili. Ed ora portiamo sul ring il suo avversario. All'angolo rosso, 15 incontri disputati, 13 vittorie e 2 sconfitte per lui, medaglia di bronzo UACO alla World Cup 2021. Pluricampione d'Italia Feather Combat e il campione d'Europa WMC in carica, categoria 52 kg, 160. Per il team Rocchi da Fiumicino, Roma Italia, di Italian Sniper, Alessio Ancinelli. Per il team siamuai... Alessio Oncinelli! Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!